Crimini in calo nella provincia di Cremona, lo dicono i dati forniti dalla Questura in occasione del 165esimo anniversario di fondazione del Corpo, che si celebrerà il prossimo 10 aprile. Il periodo di riferimento è quello che va dal 1 aprile 2016 al 28 febbraio di quest'anno. A sorprendere positivamente, come ha sottolineato il Questore Gaetano Bonaccorso, soprattutto il calo generalizzato dei furti, una diminuzione del 19% sul territorio provinciale e del 18% in città. Anche le rapine subiscono una battuta d'arresto pari al 27% in provincia e del 42% nel capoluogo. Stesso trend per i reati contro la persona passati da 1.281 a 832. Cartina attorno a sole sono le cifre riferite all'attività operativa soprattutto della squadra volante e riorganizzata per consentire una maggiore presenza sul territorio. Si è così passati da 1.382 presenze di equipaggi a 1.511 con un incremento di pattuglie del 9%. Un risultato ottenuto non certo con l'aumento di organico che anzi è diminuito ulteriormente visti i recenti pensionamenti, ma con una riorganizzazione basata sul concetto meno uomini in ufficio e più per le strade, anche per aumentare la percezione di sicurezza nella cittadinanza. Prevenzione è dunque la parola chiave, ma la presenza maggiorata della polizia per le strade si è tradotta anche in operatività. 2.041 sono le persone denunciate e 199 quelle arrestate. Infine, nota particolare per le misure di prevenzione, nell'ultimo anno sono stati emessi 117 fogli di via obbligatorio per altrettanti soggetti pregiudicati e ben 20 ammonimenti nei confronti di individui accusati di stalking.